La politica green di von der Leyen e Timmermans è stata una sciagura, una sciagura che oggi abbiamo l'obbligo di correggere e di modificare. Pena sarà avere un continente, avere un'Unione Europea sempre più debole e sempre più divisa e lacerata. Grazie Presidente. Un bicchiere di vino fa male alla salute mentre gli insetti sono un toccasana. Il formaggio è in veleno ma il pollo creato in provetta ci sfamerà. Pescare è considerato ormai contro natura ma solo se il peschereccio batte la bandiera di uno Stato membro dell'Unione Europea. Promuoviamo da un lato il biologico ma forse è meglio se smettiamo di coltivare il grano. Meglio comprarlo dall'estero perché i nostri campi devono riposare. Ecco, questa è la sintesi della schizofrenia che ha portato avanti questa Commissione Europea in questi cinque anni, sostenuta da una maggioranza in Parlamento. E oggi è ipocrita stupirsi che di fronte a questa guerra che è stata mossa a questa categoria senza senso la categoria reagisca e reagisca in una maniera violenta che ha suonato un campanello di sveglia per tutta l'Europa. La politica green di von der Leyen e Timmermans è stata una sciagura, una sciagura che oggi abbiamo l'obbligo di correggere e di modificare. Pena sarà avere un continente, avere un'Unione Europea sempre più debole e sempre più divisa e lacerata. E sono d'accordo con quanto diceva il collega Lamberts, quantomeno su una parte. Il Green Deal è una sciagura, a mio avviso, ma non è l'unico motivo per cui oggi gli agricoltori stanno protestando. Ci sono altre politiche negli anni portate avanti dall'Unione Europea che hanno fatto sì che oggi, insieme alla sciagura del Green Deal, un agricoltore non sia in grado di coprire i suoi costi di produzione. Questo è il motivo principale per cui gli agricoltori sono in piazza. Sono in piazza per la propria sopravvivenza. Sono in piazza perché non riescono ad arrivare alla fine del mese. E un'ultima considerazione politica. Oggi, sentendo parlare, sentendo le dichiarazioni sui giornali, sembra che questi provvedimenti siano arrivati dallo spazio. No. Questi provvedimenti sono stati portati avanti nei cinque anni da una commissione guidata da von der Leyen e da una maggioranza politica che oggi ha sostenuto questi impegni. Ecco, una considerazione molto importante per il proseguo dell'azione dell'Unione Europea è che dobbiamo accorgerci che la fine del mese purtroppo arriva prima della fine del mondo. E di questo gli agricoltori ne sono consapevoli. Grazie.